Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Bologna, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla Firenze Mare restano code per traffico tra Pistoia e BV111 e per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilì un chilometro di coda per lavori tra la Strassigna e Montelupo nella carreggiata in direzione mare, ricordiamo che si tratta di lavori per migliorare la sicurezza sul tratto compreso tra Montelupo e Ginestra, percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in Fipilì troviamo rallentamenti per traffico verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta a coda in uscita a Firenze Scandicci. A Firenze traffico sostenuto sulle principali direttrici in ingresso città, in particolare la direttrice Portal Prato-Fortezza-Piazza della Libertà, nella zona di Via di Nostra, in Fianopoli, via Baracca, via Ale 11 Agosto, via Bolognese, via Marco Polo, via Senese. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!